ciao a tutti ragazzi da grolollo 204 e sono qua per presentarvi una mini serie di quattro episodi intitolata le quattro stagioni di farming simulator 19 in cui vivremo la mappa gold crest valley di farming simulator 17 nelle quattro stagioni la prima stagione sarà l'inverno in inverno dovremo principalmente spalare neve perché in inverno non si può praticamente fare nient'altro invece in primavera inizieremo a seminare ovviamente non semineremo a caso ma semineremo le cose che ci sono scritte sul tabellone della season in estate invece mieteremo le le colture faremo la finagione e faremo le balle di pieno invece l'autunno sarà con la stagione in cui ci occuperemo di trebbiare le colture mature in autunno e riarare i campi per ricominciare il ciclo e spero che questo video trailer della della mini serie vi sia piaciuto e lasciate un bel mi piace ci vediamo nel primo episodio della serie le quattro stagioni e poi ci vediamo nel primo episodio della serie vi è stato in un'unico di più in un'unico